e ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono roid e oggi faremo un'altra discussione simile a quella che ho fatto qualche tempo fa per quanto riguardava le mappe introdotte dal dlc 6 director scat oggi voglio parlarvi del loot il secondo problema di quel dlc che mi ha dato veramente fastidio sia ben chiaro il numero di leggendari è più che adeguato anzi ce ne sono più del tre visto e almeno 48 leggendari arriveranno ancora nel corso di quest'anno con le altre due carte della cripta rimaste il vero problema è diciamo un po come è stato messo l'ut come è stato scelto come si è deciso di farlo apparire perché non è stato fatto bene cosa intendo diciamo ho quattro punti principali a riguardo il primo punto è che molti dei drop che dovrebbero essere esclusivi del raid boss e movora quindi dovrebbero essere drop tra i più forti del gioco e ottenibili sono lì vengono droppati come world drop a caso durante le missioni serio misterio di avo sempre parte del dlc 6 voi direte ma no è impossibile ho numerose prove di persone che conosco e utenti random che mi hanno scritto su youtube che effettivamente il fucile ionic distruttor che può essere ottenuto in teoria solo dai movore che quella fucile al cecchino che mi permette di colpire direttamente gli accappini orando lo scudo è stato ottenuto a caso anche dal veggente e dal grave keeper della terza missione di ava serio misterio assolutamente senza senso e già questo mi dà abbastanza fastidio perché quelle armi sono talmente teoria forti e uniche che dovrebbero essere esclusive delle raid boss e di nient'altro eppure non è così e già qui andiamo male la seconda cosa che mi dà fastidio è l'introduzione delle nuove quattro mod di classe che fanno diciamo ad aggiungere un ulteriore mod di classe con il ramo viola perché mi dà fastidio perché quelle mod di classe non sono state introdotte nella modalità arms race botte bottino come supponevo io bensì sono state introdotte come drop del veggente e questo è un problema che poi si andrà a ricollegare anche al mio terzo punto ma perché è un problema perché se qualcuno ha solo il dlc 6 ma non ha il dlc 5 o non otterrà dei drop da un boss il che non ha senso avere dei drop di un boss introdotto da un dlc bloccati da un altro dlc o li otterrà e non potrà sfruttarli perché se non si ha il dlc 5 non si ha il ramo di abilità nuovo e quindi tutti i punti introdotti al ramo viola da quelle mod non funzionano non vengono aggiunti non vedo il senso hanno introdotto quattro armi e le hanno messe nella modalità arms race e le quattro mode le hanno messo nel dlc 6 posso capire che è stata una scelta da dire sì vogliamo che ogni dlc abbia almeno quattro mode da mettere ma il problema è che il dlc 6 non ne aveva bisogno bastava metterle sempre nella modalità arms race e quelle quattro armi aggiunte nella modalità times race bastava lasciarle all'interno del drop rate del veggente non è stato fatto così e questo obbliga i giocatori ad avere di entrambi dlc se vogliono sfruttare il drop che non ha senso appunto vi dicevo che questo punto si andava a ricollegare al terzo perché perché durante le missioni serio misterio di ava quindi sempre trotte da dlc 6 io ho droppato questa una mod di classe verde che dà dei punti nel ramo viola e voi direte ottimo le hanno finalmente aggiunte al gioco così non ci sono solo mod leggendaria che danno punti al ramo viola problema queste mod di classe così che danno punti al ramo viola possono essere ottenuti solo nelle missioni serio misterio di ava invece che essere introdotte generalmente nel gioco questo vuol dire che beh se non avete dlc 6 non potrete mai ottenerle e anche se lo avete dovrete per forza fare quelle missioni solo per ottenere delle mod di classi banali e a questo punto vi conviene completarle per andare dal veggente ottenere le mod direttamente leggendarie perché non aggiungerle alla loot pool generale del gioco perché non mettere se hai dlc 5 facciamo anche dlc 6 anche se questo doveva già essere un prerequisito del dlc 5 allora puoi spawnare in tutto il gioco e dlc questo tipo di mod non lo so potreste pensare che magari è una cosa improponibile ma esistono letteralmente delle mod per borderlands 3 che vi vanno a spostare tutti i loot e i drop rate eccetera vanno aggiungere delle cose dai dlc al gioco base quindi è possibile e se c'è un modder uno sviluppatore dovrebbe avere vita ancora più facile eppure non è successo infine l'ultimo problema che ho con questo dlc è sulle armi non leggendarie mi spiego ogni dlc ha anche delle armi uniche armi blu viola verdi bianche eccetera che sono comunque uniche speciali anche se non sono leggendarie il dlc 4 a riguardo è stato assolutamente penoso praticamente tutte le armi viola che dava che erano uniche erano delle versioni minori depotenziate di un'arma leggendaria quindi non aveva senso utilizzarle una volta ottenuta la leggendaria a differenza degli altri dlc il dlc 5 non ha introdotto armi viola o blu uniche non ne ha proprio introdotte è solo introdotte leggendarie e anche questo mi ha dato abbastanza fastidio questo dlc ha aggiunto un singolo manufatto viola e basta che è l'amuletto misterioso che vi ho spiegato e mostrato qualche giorno fa veramente io non riesco a capire perché non le hanno messe ne avevano l'occasione di darli magari come reward per ognuna delle quattro missioni di ava erano solo quattro armi viola ma avrebbero comunque avuto un significato e invece no insomma questo dlc ha tanti contenuti ma manca nelle cose più importanti una pulizia diciamo generale un ordine di come sono stati implementate le mappe e una gestione fatta bene del loot quindi spero che questa mia discussione vi sia piaciuta e vi sia interessata in questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi nel caso non lo siete ancora per supportare questo canale e aiutarmi a fare tanti nuovi video detto ciò da Aroide tutto ciao a tutti grazie a tutti